Grappe della Trentino a Roma in degustazione e in abbinamento anche con alcuni piatti siamo in compagnia del presidente del consorzio di tutela allora spieghiamo come è nata questa idea di portare una fetta di Trentino a Roma diciamo che l'istituto è nato circa ormai 50 oltre 50 anni fa perciò siamo qui chiaramente a portare un po di spirito Trentino in quel di Roma che ci vuole mi sembra che è un po smorzato soprattutto questi ultimi tempi a parte tutto chiaramente noi siamo un gruppo siamo 29 soci è il gruppo più grosso che esiste in Italia di distillatori attivi e quindi nonostante diciamo la regione sia piccola è una regione dove la storia dell'anambicco la storia della distilleria e quindi della grappa è una storia tavica molto molto che si disperde nei tempi antichi. Sicuramente molto legata al territorio d'origine ma io mi permetto di dire anche legata alle famiglie che custodiscono i segreti di alambicchi e quant'altro allora chi sono queste famiglie lei riconoscerà tutti perché insomma 29 aderenti sono tanti. Quello senz'altro ecco più che nominare uno a uno sarebbe bello che ognuno di noi o di voi venisse a trovarci in Trentino e passasse fare proprio una gita e a visitare queste distillerie che sono delle magnifiche distillerie aperte proprio per le persone che vengono a visitarci perché noi siamo chiaramente in Trentino è un paese abbastanza turistico una provincia turistica perciò siamo tutti preposti abbiamo anche le aziende fatte apposta per ricevere gli ospiti. Ecco al di là di questo l'intendimento della giornata odierna qual è? Educare il palato perché io credo che una grappa in qualche modo vada gustata sorseggiata mi permetto di dire in un modo particolare. Siete venuti qui a fare anche questo a spiegarci come sorseggiarla? Questo lo tenevamo senz'altro alla fine benché sia un problema una cosa molto importante quello di bere perché si dice sorseggiare infatti la grappa si sorseggia e non si beve. No siamo venuti qua per dire soprattutto chi è questo istituto tutela della grappa perché è il più antico istituto italiano di tutela chiaramente della grappa che è assorto proprio con un gruppo di distillatori che hanno fatto uno statuto molto più ristrettivo delle leggi nazionali e noi ci siamo dati dei limiti soprattutto importante quello della fine distillazione entro dicembre in maniera tale che la vinaccia sia fresca e che la grappa sia facile perché ho una grappa molto molto bevibile molto leggera e questo è diciamo il slogan iniziale e in più abbiamo fatto l'unica grappa italiana certificata perché abbiamo fatto un binomio insieme all'istituto grado di san michele e alla camera di commercio che fanno un controllo sia chimico del prodotto e in più abbiamo costituito un esame organolettico che assaggia le grappe che chiaramente devono essere perfette le grappe con un prodotto anche di una qualità medio alta. grazie grazie grazie